Ciao, sono Nico Romito e anch'io sostengo l'associazione Aiutare i Bambini. Partecipate con me alla raccolta dei fondi per dare cura, assistenza e un pasto caldo ai bambini che frequentano gli asili sostenuti dalla nostra fondazione. Potete dare il vostro contributo andando sul sito www.aiutareibambini.it oppure sul sito Gruppo On Italia. Ci sono bambini bisognosi anche in Italia. Aiutiamoli, tutti insieme!